In una fase difficile per l'economia italiana, l'agricoltura si conferma strategica per il paese. Le casse di previdenza in particolare giocano un ruolo fondamentale a sostegno dell'economia reale. E' questo il messaggio lanciato dal direttore generale della fondazione Empaia, Roberto Diacetti, in occasione del forum Empaia 2022. L'agricoltura vale 30 miliardi di PIL in Italia e siamo il secondo stato dopo la Francia che ha la PIL più importante a livello agricolo. L'agricoltura di successo è quella che guarda innanzitutto la qualità. Abbiamo dimostrato in questi anni che le nostre aziende, innalzando la qualità, hanno la capacità di concorre sui mercati internazionali. Certo è una fase non facile e devo dire che investitori istituzionali, anche le casse di previdenza come la nostra, possono giocare un ruolo molto importante a sostegno dell'economia reale e dell'agricoltura. Lo facciamo innanzitutto con il nostro welfare, ma lo facciamo con i nostri investimenti che guardano sempre di più alle aziende che si vogliono internazionalizzare, al private equity e agli investimenti infrastrutturali. A preoccupare il segretario generale della UILA, Stefano Mantegazza, è la corsa dei prezzi dai prodotti del carrello della spesa alle bollette. Noi abbiamo un incremento del costo del carrello della spesa che è arrivato al 10% e si aggiunge a un costo delle bollette che è fuori controllo. E quindi è del tutto evidente che le persone a reddito fisso, soprattutto quelle che guadagnano di meno, i lavoratori più precari, quelli stagionali, sono in questo momento le persone che soffrono di più. C'è una situazione della quale quindi siamo molto preoccupati e ci auguriamo che rapidamente si assumano decisioni utili e per calmirare le bollette e per far fronte a questi rincari del carrello della spesa. Una delle proposte che facciamo come UILA è quella di stoppare l'IVA sui beni di più largo consumo.